Buongiorno a tutti e benvenuti ad un'altra analisi ciclica voluta sullo Standard & Poor's 500. Nella precedente, di qualche giorno fa, ormai una settimana fa, segnalavo che avevamo la condizione minima per la chiusura anche del T2 ciclo mensile iniziato qua insieme al T3 e T4 ed arrivato a 28 barre. Cosa è successo poi? Abbiamo avuto un tentativo di rimbalzo per la partenza del secondo T settimanale iniziato qui e facente parte del T2 bisettimanale e successivamente, non riuscendo ad aggiornare i massimi e a violare quindi questo swing assoluto a 2972 punti, siamo finiti sotto. Quindi, tentativo di ripartenza, come detto, tendenza a rialzo, lo dicevo nella precedente analisi, ma controllo sugli swing, nessuna violazione, nessuna continuazione. Quindi la condizione minima per la chiusura del T2 c'era, ma attenzione, mediamente i cicli sono a quattro tempi, ovvero primo tempo e primo T, secondo T, terzo T, quarto T. E se già vedo che non riesco a superare questo swing, non mi metto long, assolutamente, anzi, penso al fatto che un T più 1 sia composto perlomeno da due T settimanali, primo chiuso qua, secondo che deve chiudere più in basso, perché non riesci neanche ad andare più su. Per cui, come vedete, con semplici dimostrazioni si può far notare quanto la ciclica possa effettivamente essere utile e comoda, oltretutto, per muoversi, perché con semplici controlli, anche sui volumi, che non posso farvi vedere in questo caso, voi avete un'idea di che cosa sta succedendo. Per cui, procediamo ed andiamo avanti. Qui, con tutto un T settimanale ribassista, perché partito su questo minimo, 2779, e finito su questo, 2765, quindi pochi Tx8, abbiamo avuto un secondo T ribassista, che è una condizione ampiamente sufficiente a chiudere appunto un T più 2 mensile. Da qui, probabilmente, sta partendo appunto un nuovo T più 2 mensile. Però attenzione, come detto anche per il Dax, tra cicli già così grossi, un T più 2, in questo caso siamo già arrivati a, appunto, 36 barre più 2, bisogna sempre fare attenzione ai raccordi. O più, mettetevelo in mente come automatismo, attenzione ai raccordi. In questo caso, un raccordo può fare una finta verso l'alto per poi andare giù. Oppure, semplicemente, si può partire a V, ovvero con una forte spinta, come detto, per cui, di nuovo, controllo sugli swing, ovvero, se non supereremo già lunedì questo massimo a 2868, attenzione! E se inizieremo a traccheggiare e a scendere già verso questo minimo, attenzione, rischio di raccordo. Quindi, finita rialzo per poi riscendere sotto e poi riprendere e partire verso l'alto. Quindi la tendenza rialzo, comunque, per ora rimane tale e andrà controllata proprio con la partenza del nuovo T più 2 mensile. Per quanto riguarda l'inverso, che cosa possiamo dire? Qui possiamo dire che da questo massimo abbiamo fatto perlomeno fino a qua 39 barre, poi il raccordo, poi pensavo che ci sarebbe stata una partenza di T più 2, mentre invece con 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele, qui certo è possibile che sia partito un T più 2, che ha avuto un inverso, sempre, inverso. Che ha fatto così, a cui aggiungiamo poi altre 12 barre. Quindi 8 più 12. L'unico problema è di capire, semplicemente, se anche qui abbiamo avuto un piccolo raccordo e poi qui effettivamente è partito il vero T più 2 inverso, oppure no. Però, in ogni caso, se anche questo fosse un raccordo, ricordiamoci che ci ha fatto vedere che si è vincolato a ribasso l'inverso, ovvero a rialzo di indice, rialzo di spx. Anche nel nostro caso, se inizieremo ad andare in violazione dei 2953 e poi del massimo assoluto a 2972, vincoleremo tutta la nuova struttura inversa a ribasso e quindi a rialzo di indice. Ecco perché dico che qui va controllata la spinta, da lunedì in avanti. In settimana dobbiamo vedere se effettivamente si proseguirà verso l'alto o che cosa si farà. Anche perché, anche in questo caso, qui per ora siamo arrivati a 8 barre più 2. Bisogna capire se questi due giorni appartengono ancora all'8, a questo T più 2, cosa difficile però. Ok? Oppure, appunto, vogliono essere un nuovo raccordo, oppure vogliono far partire il T più 2. Ma, come detto, molto semplice comprendelo, con il swing e con il volume, con la direzione che prenderà. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo. Se l'analisi vi è piaciuta, sottoscrivete il canale, intanto è gratuito, mettete un tick sulla campanellina, oppure, se volete fare ancora di più, iscrivetevi direttamente a uno dei due gruppi Facebook che coordino in cui tutte le domande sono ben accette. Anche perché, formo trader, voglio che voi superiate quello che ascoltate da me. Andiate oltre, in modo da fare da soli. Ma, intanto, iniziate a capire che, effettivamente, con un analista quantitativo e con un metodo con regole e matematiche si possono ottenere dei validi risultati. Ancora buona giornata a tutti!